Tre consigli per gestire meglio il tuo tempo. Sono Filippo Ongaro, ideatore del Metodo Ongaro, un approccio scientifico all'aumento della prestazione, alla crescita personale. Se sei interessato a questi argomenti iscriviti al mio canale, clicca sulla campanellina così sarai sempre aggiornato. Non ho tempo, questa è la risposta universale che molti di noi danno a se stessi e anche agli altri. A rimetterci in generale, guarda caso, sono sempre quelle cose che costano un po' di fatica ma che potenzialmente ci potrebbero fare molto bene. In altre parole il tempo raramente ci manca per guardare un programma televisivo, per ascoltare un programma alla radio, per sfogliare una rivista o per navigare per ore senza alcuna destinazione e senza una meta chiara su internet. E' abbastanza curiosa questa contraddizione perché sembra che il tempo non basti mai, alla fine poi bisogna ricordarsi che tutti noi abbiamo 24 ore, non è che chi è efficace, chi raggiunge i propri risultati, chi è super produttivo, chi ha una vita intensa ma controllata ha delle giornate più lunghe degli altri, quindi il tempo è uguale per tutti, ma stranamente chi in genere risponde non ho tempo, io ho notato che prima di tutto non ha tempo esattamente per le cose che gli servirebbero, questo è quasi sempre così e poi in genere è una persona che non gestisce molto bene il suo tempo. Io mi ricordo anche molto spesso anni fa persone che mi dicevano io non ho tempo per allenarmi, non ci riesco, vado ogni tanto, poi quando li trovavi in palestra erano quelli che stavano 20 minuti al bar, 10 minuti alla reception e 30 minuti in doccia, perché in realtà la loro mancanza di tempo non è un'accusa, deriva principalmente da una cattiva gestione del tempo, non è che il tempo manchi. E oggi lo si vede con grande frequenza, siamo un po' tutti impegnati a fare gli impegnati, sempre facciamo finta di avere il telefonino che sia arrivato chissà quale messaggio eccetera, ma dentro questi gesti si annida la possibilità di perdere un'enorme quantità di tempo. Questo è stato detto da tanti esperti di leadership, di alta prestazione, sono tanti anni che lo si dice, all'interno del proprio telefono, del proprio smartphone, per quanto ci sia tutto il sapere umano e l'opzione di formarsi, di imparare in particolare con i miei video ovviamente, è chiaro che però si annida anche la possibilità di perdere un sacco di tempo, di ricevere una marea di cose in termini di informazioni che non sono pertinenti, che non ci interessano e che però rappresentano una fonte potenziale di distrazione, un attimo di divertimento che rafforza la nostra produzione di dopamina e dunque facciamo fatica a farne a meno. Io ci sarebbero molti suggerimenti da dare su come gestire meglio il tuo tempo, te ne voglio dare inizialmente perlomeno tre e il primo suggerimento è di un'ovvietà che lo rende quasi banale ma poi nella pratica quotidiana purtroppo succede il contrario. Fai una tua priorità di non sprecarlo il tempo, scrivitelo dappertutto, scrivitelo sullo specchio in bagno, mettitelo sul computer, non sprecare tempo perché la tendenza a sprecarlo navigando a caso con i pettegolezzi, con le chiacchiere al bar, col cercare informazioni che non servono assolutamente a nulla, con leggere cose completamente superflue, con sapere tutto di quel tizio che ha partecipato a quello show in televisione che cosa te ne frega, cosa cambierà nella tua vita grazie a questo sapere. Ecco tutta questa mole di roba che invade il nostro cervello è un'enorme distrazione che ci porta proprio fuori dai binari di dove vogliamo arrivare, di chi vogliamo esserlo e però non c'è rimedio se non che tu impari a non sprecarlo il tempo. Quindi fai in modo che fisicamente questo mantra di non sprecare il tempo sia a te visibile, scrivitelo da qualche parte in modo che te lo ricordi. L'altro punto numero due è imparare a dedicare il tempo alle cose giuste, perché se io occupo il mio tempo con le cose giuste che mi portano a raggiungere gli obiettivi, guarda caso, poi non ci sarà tempo per le cose inutili. Quindi la situazione si rovescia. Rispetto a quello che ti dice non ho tempo di fare le cose importanti, ma fa un sacco di cose non importanti, se tu impari a capire quali sono quei gesti quotidiani che contano davvero per te, se impari a capire che forse fare allenamento è più importante che passare al bar un quarto d'ora sfogliando il giornale, ecco che quel tempo lo occupi con cose che ti arricchiscono, che ti rendono più sano, che ti rendono più forte, che ti rendono più felice, perché una delle cose importanti per gestire il tempo è non accettare che sia fuori dal tuo controllo, il tempo è sotto il tuo controllo e tutto il resto sono scuse. Quindi il tempo è tuo e puoi gestirlo tu, sta a te fare la lista giusta. E punto numero tre connesso a questo è organizzare questo tempo, creare dei blocchi di lavoro, inserire nel tuo calendario il tempo libero con amici per fare delle cose che ti divertono, creare dei cluster, delle categorie di azioni e provare a distribuirle nel corso della settimana, nel tuo calendario, in modo da ridurre la possibilità di essere portato fuori strada dal cosiddetto imprevisto. Io lo dico sempre scherzando, è una battuta ovviamente, ma gli unici imprevisti tollerabili sono ahimè un terremoto, un meteorite, gli altri non sono imprevisti, sono una mancanza di pianificazione. Se arrivi un'ora in ritardo ad un appuntamento non è un imprevisto, hai calcolato male i tempi, quindi è tutto parte di questa cultura che non deve diventare un'ossessione, ma cultura della gestione e soprattutto della responsabilizzazione. Noi siamo responsabili e dobbiamo capire che il tempo è solo il riflesso delle priorità che ci diamo, niente di più. E le cose che veramente ti interessano, le cose che veramente contano, ti assicuro che troverai il tempo per farle. Il problema è, quelle cose che contano, contano davvero? O contano perché ti danno un piacere immediato? Il tempo è la risorsa più preziosa che hai. Sfruttalo bene.